Sindaco Verrocchio non sembra esserci pace per il mercatone 1 di Scerne di Pineto, qualche anno fa ci fu già una vertenza che in qualche modo è andata a buon fine attraverso il lavoro delle istituzioni ma ora il nuovo soggetto, la nuova proprietà paventa il licenziamento di una parte del personale. Sì, sono stati alcuni anni adesso di sofferenza, di forte preoccupazione da parte dei lavoratori legittimamente che non hanno ancora capito quale e se ci sarà un futuro. Diciamo che ci sono stati importanti risultati qualche anno fa, l'indomani dell'iniziativa, del tavolo che ha messo insieme, che ovviamente ha visto il comune di Pineto protagonista mettendo insieme tutti i livelli istituzionali, provincia, regione e Parlamento e mettendo insieme tutti i colori politici, quindi intorno alla risoluzione di questo problema. Diciamo che c'è stato questo grande passo in avanti che ha consentito poi al mercatone nel suo insieme con i vari punti vendita, grazie e ringrazio all'assessore Lolli, di essere inserito all'interno di un'attenzione nazionale, tant'è che c'è l'interessamento del Ministero. Ora finalmente c'è un soggetto, finalmente il mercatone 1, almeno quello di Pineto ma anche gli altri due della regione Abruzzo, stanno all'interno del perimetro delle strutture che verranno salvate e di conseguenza che verranno rilanciate da parte di questo nuovo soggetto, la Sheridan Holding. Ovviamente adesso ci sono altri problemi, i problemi adesso riguardano l'occupazione, il nostro punto nello specifico è il punto con il maggior numero di personale, credo quasi 60. Ieri abbiamo visitato la struttura insieme al consigliere regionale, abbiamo parlato con i lavoratori, adesso all'indomani di questo incontro noi ci rendiamo disponibili, sto già scrivendo insomma al Ministero per avere la possibilità di incontrare un nuovo soggetto che poi verrà sostanzialmente ad investire nel rilancio di questa struttura e vedremo il modo in cui noi potremo essere utili per cercare di arginare e collimitare il danno, tra virgolette, la perdita dei posti di lavoro. Adesso saremo tutti al lavoro e io auspico un'attenzione corale come c'è stata nella prima fase e anche in questa seconda fase da parte di tutte le istituzioni a prescindere dal colore politico.